Tubertini Finesse, canne dal profilo ultra sottile in due pezzi, con innesti a spigot per la pesca a light spinning, costruite in carbonio alto modulo, finiture curatissime, con sezioni finemente verniciate, impugnatura in sughero, anelli Fuji KL Tangle Free. Sotto trazione disegnano curve armoniche e progressive, assicurando sensibilità e divertimento senza eguali. Elevata reattività, per garantire capacità di lancio e controllo degli artificiali di ridotte dimensioni. Azioni ultra light, light, medium e medium strong. Tubertini Finesse.